ragazzi welcome back sono michele conosciuto anche come mike of the desert sul web e lo scorso episodio che disastro che disastro effettivamente più ci ho pensato più mi sono reso conto di quanto poco abbiamo giocato abbiamo parlato in maniera anche abbastanza caotica però è mia intenzione cambiare un pochino l'iter oggi mentre intanto osservo per la prima volta devo dire la verità che non ho quasi mai utilizzato palestra in dark souls ed è bellissima la borsa dei quadrelli è veramente bella è veramente fatta bene quanti dettagli tra l'altro è carinissimo che vedete l'estetica di quel bordino di cuoio è lo stesso che abbiamo sullo scudo molto simile comunque è una cosa divertente allora ragazzi intanto abbiamo speso tutte le nostre frecce per così poco accidenti wow allora l'obiettivo di oggi sarà assolutamente annichilire i quattro re si comincia o no ci sono esatto l'aggressive fa il suo dovere ok si è acceso per fortuna ho pensato al warp di dark souls 2 ho pensato a conti fatti che dopo tutto non conviene tenerci frampt e mkath perché l'abbiamo già visto nell'animo oscuro e dopo tutto non è necessariamente migliore perché frampt ci permetterà in maniera eterna di modificare le titanite quindi perché mai privarci di questo quando la lore non è ciò che ci interessa esattamente allora partiamo da un presupposto importante però vogliamo comunque fare i quattro re allora visto visto dove stiamo per andare non ci interessa fare critici quindi l'anello del calaburone non ci serve diamoci da fare il lui qui prima o poi se avessimo parlato con lui si sarebbe allontanato l'avremmo trovato vuoto ad appettite londo lo abbiamo un po ignorato povero il crestfallen warrior allora nello scorso episodio ragazzi abbiamo cominciato a discutere in maniera molto superficiale di un prologo a ciò che potrebbe essere parlare insieme del soprannaturale di ciò che purtroppo la società tende a ignorare ea completamente svilire a causa della sua intrinseca pigrizia ed egoismo sociale proprio egoismo di cultura ossia sti cazzi non ci riguarda finché non entra nel mio giardino non mi interessa cosa tra l'altro assolutamente plausibile perché dopo tutto l'essere umano rimane comunque un animale ea tutti i meccanismi tutti i meccanismi sia sociali sia naturali che ne derivano in maniera istintiva a giusto mi ero dimenticato di come appettite londo fosse uno schifoso inferno di caricamento texture facciamo qualcosina di un pochino più delicato allora eviterò di mettermi a fare rushing a cosa è servito il prologo dello scorso episodio ragazzi è servito fondamentalmente a dirvi una cosa molto semplice state attentissimi qualora vi interessaste mai a informarvi su qualunque cosa che non sia che non sia scritta sui faziosi e comodissimi scritti ad hoc libri di scuola eccetera state attenti a come vi informate dove perché se la stessa televisione è un incredibile nido di mondezza menzogniera internet è molto spesso le stesse persone sono una giungla di stronzate è molto difficile dovete essere molto 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 attenti perché è molto importante intanto non chiudersi avere la mente aperta ma anche gli occhi le orecchie aperte ragazzi c'è un equilibrio in tutto questo altrimenti si vanno a creare le persone che parlano delle scie chimiche per esempio le scie di condensazione cioè nessuno metterà mai in dubbio e chi lo mette in dubbio semplicemente è troppo buono nei confronti del mondo che non esista il fenomeno delle scie chimiche è ovvio che comunque qualunque esperimento sia mai stato fatto è stato fatto e lo continueranno a fare qualora gli avesse gli donasse qualunque tipo di utilità ma non sono le scie di condensazione degli aerei a cui fanno le foto porca miseria quella è aria cioè ragazzi mio padre è un ex comandante di volo so di cosa farlo e figuratevi a me mi sale il veleno ogni volta che sento queste persone che per sentito dire e per cospirazionismo sciocco nonostante il mondo la storia sia costituita da cospirazioni fin dagli albori della storia non è assolutamente una novità e bisognerebbe esserne tutti consci però ovviamente i mitomani la gente che non ha un cazzo da fare e ciao e soprattutto le persone facilmente le persone facilmente impressionabili e gli stolti che si mettono a cercare attenzione sono fin troppi sono troppi quindi si va a finire con appunto un tristissimo buco nero di informazioni sbagliate e da questo non si scappa eh quanti sono quanti ne stiamo uccidendo abbiamo aggrato l'inferno vero vabbè l'idea era questa pulire l'area in aggressive prima che fosse troppo tardi ora possiamo andare dall'ascensore quindi state attenti ragazzi ci sono tante cose che hanno un'incredibile veridicità mischiate a nidi di merda è veramente una cosa deludente ma purtroppo il mondo è così specialmente nei confronti del sovranaturale dell'occulto e dell'ufologia purtroppo bisogna sapersi veramente restreggiare sarebbe comodo avere l'anello appunto di legno oscuro no di ferro rugginito scusate quello sarebbe molto utile perché purtroppo è così allora vediamo se riusciamo a evitare io qua volevo un attimino appunto decidere di giocare un attimino bene visto che ho finito l'introduzione volevo stare attento e non farmi agrare da te allora non voglio farmi incastrare capite ok no non si può vero non posso prenderli uno uno ad uno tocca fare no anche il midrall qui non serve moltissimo perché la difesa non è importante ok allora andiamo verso la nebbia eh ma ci sarà sicuramente la melma che ostruisce qui sono molto preoccupato sapete oh che brutto mi sarà costato caro no no ok ce la facciamo allora oioioi ma salute questa non me l'aspettavo per niente questa era fuori dai piani ma non ci cambia troppo la storia basta sapere dove siamo e lo so bella trappola quella per un rivel ordine wow 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 cosa 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 è successo cosa mi ha colpito il red phantom ha avuto uno scatto di tracking si è per caso voltato sul se stesso per colpirmi ero convinto di passare accanto ero convinto di passare accanto e non è andata così questa è una cosa che mi delude tantissimo perché ero convintissimo di essere al sicuro me la stavo calando per me in maniera naturale invece no non sono stato abbastanza attento ma forse non voglio dare colpe a quello che non è la mia abilità perché qui è stata colpa mia però comincio a risentire un po' del abbiamo solo 16 a stamina comincio sentirmi un po' appesantito dal mid roll porca miseria mike vabbè proviamo un'ultima volta in mid roll però poi vado in fast roll e la facciamo finita perché ovviamente il mio gameplay è fast roll non posso farne a meno non mi sentirò mai a casa ho voluto provare a cambiare un po le cose proprio per dare uno sprint di originalità alla run ma il prezzo da pagare altino comunque ragazzi il praticamente ciò che è giusto sapere è la mia opinione appunto riguardo il paranormale partiamo da questo presupposto e ciò che mi piace sempre dire le persone è che per me il paranormale non esiste è semplicemente normale che non si conosce o comprende ragazzi 500 anni fa sapete che cos'era il paranormale per le persone vero tutto ciò che adesso è assolutamente quotidiano cioè praticamente poco più di un secolo fa quasi due secoli fa ma si riteneva che se un essere umano avesse mai potuto muoversi più velocemente di un cavallo di un treno si sarebbe disintegrato disintegrato dico sul serio e svariate migliaia di anni fa si riteneva che il fulmine fosse un evento celeste divino creato da entità fisiche di altri piani non è così lo stesso discorso ragazzi è assolutamente buffamente perché la gente non vuole capirlo in maniera logica riconducibile al caro vecchio fenomeno del paranormale dei fantasmi dei poltergeist di ciò che si vede in alcune immagini da con ciò che si può percepire il semplicemente perché la scienza a differenza di appunto 200 anni fa si è firmata ha deciso di dire basta tanto ormai le cose le sappiamo quando la teoria la fisica quantistica e appena gli inizi non capisco perché la stragrande maggioranza della scienza si è dovuta a castrare in quel modo non è stata una bella idea vero però mi sa che una buona sarà vero nestus ah ero convinto che fosse un pochino più lontano allora provo una proviamo un attimino a fare in silenzio allora che brutta questa cosa per fortuna non dovremo più tornarci ecco si ha fatto quello e mi ha colpito allora vieni perfetto ora perfetto questo volevo ciao ciao questo non è dark souls 2 e siamo invulnerabili ora ci mettiamo qui e aspettiamo il fantasma ah sono tanti stiamo attenti perché con l'aggressive non so come può funzionare questa storia ok li abbiamo fatti scendere e ora li attacchiamo perfetto ok ci siamo quasi non ho l'anello di artorias quindi non posso rischiare di cadere mettiamoci l'anello di artorias così possiamo rischiare di cadere e mi sento molto più sicuro ok perfetto visto che è stato comprovato che le dimensioni che non possiamo percepire comunque altro che se esistono le possiamo visionare ragazzi in questo modo avete presente quando siete in auto vostra o non vostra che c'è la radio la radio funziona a frequenza noi stessi il nostro corpo ha una sua vibrazione vibrando la materia diventa fisica no per il nostro mondo la nostra fisica funziona in questo modo diventa concreta dopo tutto la cosa più divertente che imparai al liceo è che quando noi tocchiamo un oggetto in realtà non lo stiamo toccando perché c'è la forza di repulsione degli elettroni che non ci fa toccare quell'oggetto ma il tatto è la reattività appunto cellulare a quel tipo di repulsione è una figata pazzesca però cosa che ci fa toccare gli oggetti sono appunto è la vibrazione della materia se la materia fosse immobile sarebbe un casino e lo stesso vale appunto per l'attrito eccetera 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 io sto parlando in maniera molto poco complessa proprio per evitare di fare gaffo visto che non sono un fisico ok parlo come mi sono introdotto nello scorso episodio per la mia cultura generale e passione che ho nell'argomento il indie per cui esattamente come quando è possibile osservare fenomeni cosmici di un certo tipo grazie a dei filtri che che filtrano la luce di una certa gamma lo stesso vale per le altre dimensioni cioè le altre dimensioni sono semplicemente sto risalendo per farvi vedere una cosina le altre dimensioni sono semplicemente su altre frequenze è assolutamente fisica questa cosa è assolutamente naturale quindi tutti i fenomeni di c'è qualcosa oltre il nostro noi vediamo il 3 per cento della gamma quello che ci circonda esattamente come siamo costantemente costantemente ogni istante della nostra vita perforati da fotoni del nostro sole ma non li vediamo perché non sono sulla nostra gamma visibile lo stesso vale per qualunque tipo di forma di vita o entità che non faccia parte della nostra dimensione ma è assolutamente naturale il quindi può succedere che in alcune in alcune situazioni abbastanza particolari ci siano degli attimi nei quali vi è magari una distorsione magnetica o quel che sia che per un istante fa percepire qualcosa che si è avvicinato per un attimo a causa di qualunque evento possa essere alla nostra vibrazione questo fondamentalmente che penso io non ritengo assolutamente aliena la cosa né incomprensibile invece ritengo di andare in fast roll eh ragazzi andiamo in fast roll perché non esiste che io affronti 4 re in mid roll senza voler fare una sfida a me stesso ma non ho niente non ho assolutamente niente va bene dai andiamoci dentro eviterò di parlare dell'argomento mentre sto facendo questa follia ok facciamo uno scontro minimamente dignitoso ecco qua di abisso niente male eh carotino nell'abisso ragazzi ok ti prego non davano a fare quell'attacco grazie quant'è che non combattevo i 4 re? quant'è? ah facciamo pochino oh neanche troppo neanche troppo wow ero convinto che girandogli intorno bastava questa è solo mancanza di esperienza non mi ricordo più semplicemente mancanza di memoria più che l'esperienza su su bimbi oh oh vedete non riconosco più il pattern ah cavolo è già apparso il secondo re? eh si no 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 perché no maledetti questo potrebbe farci perdere lo scontro fa perdere così tanto tempo questo attacco ne fa perdere così talmente tanto questo è un attacco veramente scomodissimo ed è una delle poche cose un pochino ingiusti di dark souls perché quando scompare il suo modello continua a fare danno per un po' di secondi una cosa molto sbagliata molto ahia ahia devo darci le no 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 ha lanciato anche lui la dark magic ma siete proprio dei cani e adesso siamo 3 contro 1 brutta devo toglierlo di mezzo ok uno è andato io spero che l'altro non faccia il dispettoso perché sennò è un casino allora perché ovviamente vediamo un po' eh ok ok ci sta andando bene non è aggressivo quanto potrebbe essere sta facendo il signore sta facendo il duca ok dai 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 perfetto ok allora l'altro che fa? che intenzioni ha? mi sembra buono mi sembra buono scusate se non posso parlarvi dell'argomento ma potete capire che vorrei almeno darvi uno scontro con un po' di concentrazione ah cavolo non ho la stamina mi prende mi prende mi prende no per un pelo allora beviamoci l'ultima essus non scappare non scappare ma sei proprio un cane abbiamo umanità? si ma non equipaggiata e ovviamente è diventato aggressivo anche l'altro re e vabbè quelle sono questioni di tempistiche ah vabbè non l'abbiamo perso non l'abbiamo perso ma ovviamente c'è il rischio visto che ora siamo di nuovo contro tre allora equipaggio l'umanità perché se no rischio troppo ok andiamo perfetto andiamo teniamoci stretti e facciamogli più dps possibile su su bravo perfetto ok abbiamo vinto non credo nulla possa interrompere la vittoria adesso salvo appunto attacchi in combo che ci stunlockano perché siamo nudi stiamo di nuovo contro tre re ma ora non dobbiamo ucciderne uno basta fare danno ok la presa la presa la presa ah cavolo ho rollato all'indietro prima di lato avrei dovuto rollare all'indietro fin dall'inizio questo è stato un mio errore ovviamente bello il volto la mancanza di fogo mi ha permesso di vederli in volto questa risoluzione ah ma quando moriranno potremo vedere cose carine vediamo un po' wow peccato che è così veloce stupendo stupendo ok abbiamo preso il primo frammento di anima di lord frammento dell'anima di gwyn ricordate spero di sì ma questo è kath the dark stalker kath it is a curse ah very good indeed eh sei tu sei tu e sei cattivo sei cattivo quindi tornate nell'abisso vattene via stop enough scusate sto facendo l'imbecille ma questa è una cosa che non si poteva fare nell'anima oscura l'arma divina è veramente una pippa in queste cose contro queste creature mentre c'è carotino che ci osserva ok volevo farvi vedere la sua scomparsa nell'abisso andiamo a parlare con franz per quanto riguarda questo c'è è una oh facciamo un po' di level up ok stiamo andando bene appena destrezze a 30 smetterò di livellarla perché non possiamo portarla a 40 in questa run non abbiamo abbastanza anime però forse abbiamo abbastanza anime per fare un altro level up quello sì solo smoth eh sarebbe stupendo poter utilizzare il suo martello ma purtroppo non abbiamo abbastanza caratteristiche quindi utilizziamo la sua anima quella di Sif non voglio utilizzarla perché è veramente un'anima estremamente multiuso quindi va benissimo andiamo così solo of a hero solo of a hero forse due livelli ci riusciamo a strappare dalle grinfie del fuoco no non due livelli ma abbiamo comunque abbastanza materiale vero? altro che vediamo sì 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 dovremmo esserci sì ci siamo 28 cazzo 100 anime Mike 100 anime dai su ok quante titanite scintillanti abbiamo? 4 allora questi anime noi li utilizziamo per fare un level up no 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 ci teniamo un attimino 27 a destrezza e andiamo ad Anor Londo vi faccio vedere un giochino voglio farvi felici voglio divertirci in questa run allora Chamber of the Princess per quanto riguarda il paranormal se ne potrebbe parlare per talmente tanto tempo e talmente tante teorie molto logiche molti discussioni sulla morte su ciò che accade all'essere umano dopo il post morte biologico non biologico anima spirito corpo tutte cose molto affascinanti studiate anche da persone molto scientifiche ed è quello che voglio io è quello che voglio io e ci sono persone molto scientifiche che hanno scoperto cose molto interessanti molto molto inquietanti a dire il vero ma non è luogo per parlarne indipendentemente da quello che vogliate desiderare purtroppo lo farei ma non ci sarebbe il tempo né il linguaggio né la calma né il modo molto più buffo secondo me molto più buffo è il discorso deprimente sulla vita extraterrestre ragazzi porca puttana siamo stiamo parlando stiamo parlando di un pianeta il quale troppo poco tempo fa era convinto che la terra su cui camminasse è piatta un pianeta il quale è costretto soffocato e impiccato da ciò che è stata chiamata religione perché non confondiamo la fede con la religione ragazzi guai a voi sono due cose molto diverse la religione è potere la religione è una sorta di sottomissione di un popolo la religione è lavaggio del cervello per ottenere soldi e potere la fede no la fede è una delle cose più potenti che può avere un essere umano tuttavia sapete com'è le cose si confondono vero? è lo stesso discorso di flame deer flame eh ragazzi dark souls non è altro che una metafora visto che è stata fatta da uomini ah e a proposito fenrir santissima meravigliosa donna mi ha fatto notare una cosa visto che molti parlavano ah ma per caso i giganti di dark souls 2 sono quelli che si vedono in dark souls 1 no ragazzi vedete che bel naso che ha questo signore non è un buco di culo ok niente da fare hanno fatto una merdata hanno inventato una razza nuova che hanno che però sono diventati gli arci alberi quindi è una cosa molto importante di lore purchase eaten perché si le cose qui si trovano facilmente ma dark souls 1 nella 1.0 non era così buono come lo è adesso queste cose furono aggiunte da una patch inizialmente anche dark souls 1 aveva dei problemini la twin clean titanite era soltanto farmabile credo proprio che alla fine cadrò a usare l'anima di sif perché tanto scudo di artorias o spada di artorias non la useremo si no no si tanto purtroppo lo scudo magico è inutile perché è stato nerfato a livelli terrificanti ah che bella la luce ok allora strong ah yeah reinforce weapon noi dovremmo avere un'arma che io adoro ecco la la black knight halberd quindi andiamo 1 2 3 perfetto e più 4 ci mancano 2 2 vediamo un po' possiamo comprarne una ah ci sta il red phantom qui si c'è il red phantom però credo che sia troppo per noi dicevamo la ok grazie vediamo se riusciamo a fargli abbastanza danno non credo usa lo scudo vediamo 1 si 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 è assolutamente fattibile peccato che non ci darà bonus sulle anime potremmo metterci l'anello del serpente però eh magari dopo averne ucciso uno ok dai ora perfetto ragazzi siete vi rendete conto di come mi sento meglio col fast ovvero lo percepite come mi sento molto più a casa mia mi dire fate così ditemi voi in realtà abbiamo speso molte risorse per il fast roll e per il mid roll con nighlit knight quindi sarebbe un grande peccato non non usufruire della difesa però io mi sento veramente 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 poco bene in mid roll allora no non abbiamo abbastanza anime per fare il più 5 sto pensando a dove fare tante anime in fretta qualche boss lasciato alle spalle l'idra ne dà 5.000 l'idra nera ne dà 10.000 il grande vuoto il grande vuoto forse non è una cattiva idea ma lo sapete è vero che ho intenzione di quanti pezzi quanti pezzi di ritenite normale abbiamo 3 non bastano neanche per nulla io ho intenzione di portare la più 5 armada di cristallo e utilizzare il buff spada del sole per combattere contro alcuni boss volevo dirvi questo come siamo messi a potenza se utilizziamo adesso l'alberd credo che aumenterà il danno vero? altro che si aumenta e le statistiche per utilizzarla sono 32 a fort perfetto eccoci qua possiamo andare un po' così ah mid roll e allora torniamo operativi ai nostri vecchi tempi come va qua? fat roll do strado peccato 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 ovviamente così siamo in mid roll ma mi sento una merdina da aver perso un anello così peccato che dite accidenti porca miseria che strano avete visto? un moveset unico no non mi dire e guardate il realismo di un alabarda pesante ma non mi dire non fa il moveset solo più lento mamma mia questa mancanza di dettagli veramente che scomodità non ce la faccio essere magnanimo ragazzi con ciò che gli è sfuggito di mano in dark souls 2 veramente non ce la faccio attacco in salto attacco unico mamma mia guardate solo come utilizza l'arma a due mani quando ha la forza per farlo è realistico se manca il bersaglio ti sbilancia cazzarola e sì parliamo di questa piccola cosina fatevi pensare grande vuoto potremmo andare nel DLC potremmo andare nel DLC andiamo da Frant e poi torniamo a fare il giochino suicida della tomba di giganti voglio togliermi il pensiero facciamo la cosa giusta ragazzi e poi andremo da Isalit allora noi siamo ragazzi uno sputo di caccola noi siamo un atomo di una caccola nell'universo c'è stato uno scienziato un sant'uomo secondo me una persona molto molto intelligente che ha detto una cosa ovvia a parte il fatto che noi continuiamo a scoprire noi conosciamo il 7% dei nostri oceani ok non abbiamo la più pallidissima idea non abbiamo la più pallidissima idea di cosa si trova sotto i nostri oceani abbiamo trovato forme di vita del nostro pianeta che vivono nei vulcani nella lava nel magma e morirebbero se facesse più freddo quindi e abbiamo la faccia tosta ovviamente parlo solo dei più chiusi ottusi di pensare che siamo l'unica forma di vita senziente nell'universo è una cosa allucinante io non mi metto a discutere del concetto eh ma che vuol dire ci sono ma non sono venuti qui eccetera 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 ah non mi va di parlarne perché è un argomento incasinatissimo talmente complesso che andrebbe a me a scomodare yeee che andrebbe a scomodare talmente tanto la questa parte parlata è veramente un incubo andrebbe a scomodare talmente tanto la religione e si creerebbero discussioni terrificanti basti pensare che comunque le religioni nascono su fatti realmente successi ovviamente tutte le religioni hanno elementi in comune e tutte le religioni hanno iconografie talmente tanto ridicole se uno ci pensa bene talmente tanto esplicative di alcuni meccanismi della storia dell'uomo che tutte tutte parlano in maniera assolutamente forse è arrivato il momento di usare le armi che abbiamo ah eh mi sa ecco fatto però non posso mettermi qui a parlarne sarebbe un discorso talmente complicato esistono conferenze ragazzi che durano 12 ore consecutive di parlato che parlano di come la bibbia è stata tradotta male in maniera comodissima spocchiosa sbagliata piena di errori se tradotta bene dice cose completamente diverse completamente diverse la religione è basata su una traduzione sbagliata cioè è una cosa ghiacciante però ovviamente non possiamo metterne qui metterci qui a parlarne perché si creerebbero discussioni così delicate e non voglio certamente urtare la sensibilità di nessuno anche perché chiaramente chi crede non è che crede alla storiella della bibbia ha una fede e quella ho già detto che è importantissima è guai guai a offenderla o denigrarla perché quella è la cosa più potente dell'essere umano quella è l'anima dell'essere umano lasciate perdere non confondiamo le due cose non fraintendete guai a voi quello che dico io non fraintendete le mie parole guai che lì mi incazzo perché ovviamente sono commenti delicati non voglio sentire merda nei commenti non vorrei mai che accadesse l'eroe che facciamo non ci ho pensato a l'eroe non ci ho pensato l'eroe lo voglio lo voglio l'eroe lo voglio e che cacchio ehi 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 calmini calmini va tutto bene oh no oh che culo questa non me la ricordavo ok quindi ci fu questo scienziato lo so ragazzi non posso mettermi a parlare lo so che vorreste che io parlassi di abduction discorsi porca miseria sarebbero discorsi davvero affascinanti da fare specialmente perché so che vi farebbe piacere avere a che fare con una mentalità scientifica come la mia cinica scientifica e io odio odio i creduloni però non ho la mente chiuse so pensare con la mia testa ed è una cosa molto rara oggigiorno per fortuna che qui siamo una community speciale per questo che parlo liberamente mi intriga moltissimo darvi queste parole il ci fu questo scienziato che disse allora ragazzi parliamo per assurdo presupponiamo qualcosa che è chiaramente falso che non può esistere che è talmente stupido nella fantasia di un essere umano che risulta essere ancora più banale di una storia per bambini che di solito sono poco banali a dire il vero sono appunto molto molto profonde il almeno è caduto stavolta no eh si è caduto è caduto allora no ma che cosa sto facendo non sono diventato umano ragazzi questa è la distrazione da chiacchiera ovviamente questo ne siete sicuramente assolutamente consapevoli praticamente disse immaginiamo per assurdo la cazzata irrealistica che una galassia su un milione abbia dei sistemi solari ricordiamoci che una galassia ha centinaia di miliardi di stelle a volte si arriva al trilione ok bene io vorrei farvi un piccolo appunto fu calcolato e non è neanche troppo difficile da fare ovviamente si è una calcolatrice un po' di fantasia e voglia di farlo che un essere umano se dal momento in cui impara a parlare in realtà dalla nascita ma mi piace modificarlo per dargli più senso cominciasse a contare morirebbe di vecchiaia morirebbe di vecchiaia prima prima di arrivare a un miliardo morirebbe finisce il tempo non c'è porca puttana ero convinto che saltasse giù però ora mi uccide e infatti sarà difficile incontrare l'eroe sarà molto difficile incontrare l'eroe perché non voglio sprecare umanità ultimo tentativo se non funziona ragazzi niente l'eroe perché voglio parlarvi ma non voglio perdere umanità che mi ci serviranno per quell'an decisamente decisamente lasciamo perdere per quell'an Ecco ragazzi Bastava stare in silenzio ovviamente Bastava stare in silenzio e giocare decentemente Come al solito Niente di strano Semplicemente la normalità Oh no Che fastidio eh Che fastidio bastava fare così E non l'attacco in salto Mannaggia Allora Quello che vi stavo dicendo E che ora ho ricapito in maniera molto rapida All'altra volta guardate che bello che è il teschio Eh? Che fa luce E quello è il grande vuoto eh Magnifico 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 Oh tutto così incredibilmente interconnesso Fantastico Che meraviglia Questo scienziato Molto colto Disse Un paragone incredibile appunto Velocizzando Un Una galassia E allora ipotizziamo Che una galassia su un milione Abbia le sistemi solari Ipotizziamo Che una di queste galassie Che una galassia su un milione Che uno di questi sistemi solari Su un milione Abbia dei pianeti Che possono ospitare la vita Di questi pianeti Uno su un milione Sviluppa la vita Di queste vite Una su un milione È intelligente Ragazzi immaginate Gli zeri che abbiamo raggiunto È ridicolo Abbiamo raggiunto talmente tanti zeri Che non starebbero in svariati sacchetti di smarties Di queste vite intelligenti Una su un milione È superiore alla nostra Praticamente abbiamo raggiunto Una percentuale talmente ridicola E irrealistica matematicamente Che è far ridere i polli Ora Lo scienziato disse Ebbene Ora che abbiamo ragionato per assurdo Dicendo tutta questa marea di stupidaggini Sappiate che se veramente fosse così E non lo è Perché è sicuramente molto di più Molto di più Beh ci sarebbero svariate Centinaia di milioni di specie Più intelligenti di noi Nello spazio conosciuto Non quello che non conosciamo Nello spazio visibile Che abbiamo scoperto esistere Visto che ogni secondo che passa Purtroppo ne scopriamo sempre Svariati anni luce di più Che dovrebbero essere 14 miliardi di anni luce Ma continuano ad aumentare E loro sono diventati 16 Quindi è abbastanza Pazzesco Il Quindi immagino che Il discorso Non possa neanche presentarsi Non è neanche una discussione Decisamente no Ciò che In realtà Intriga Le menti di tutti Ovviamente Sono alcune Realizzazioni Dell'essere umano Perché ovviamente Alcune delle cose Più incredibili Della storia dell'umanità Come le piramidi Non sono Oggigiorno Spiegabili Io sono stato all'interno Di una piramide E l'ho vista da vicino Non avete idea Cioè Io sono 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 rimasto Allibito Oh guardate che carini Piccoli scheletri Non morti Che si abbracciano E ballano insieme Cazzarola Potrebbe diventare Una gif animata Da forcianna questa Lasciatemi in pace Figata Ragazzi Dai Questa ve la Aspetta 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 HOD Off Ecco Questa ve la lascio Tutta vostra Occidente Stupendo Ok Le piramidi Ragazzi Sono costruite In maniera tale Che oggigiorno Nel tempo In cui sono state erette Non sarebbe possibile Costruirle Lo hanno detto Talmente a tanti Di quegli ingegneri Che ormai Viene il mal di testa A pensarci Ciò che Mi fa sorridere È che Io sono dell'idea E questo è un opinione Personale Che non sia stato Affatto Una razza Di un'altra Di un'altra Intelligenza Di un'altra specie A costruire Quegli edifici No Assolutamente no Sono stati gli esseri umani Ma Uno Non gli egiziani Per svariate ragioni Storiche Che possono anche Elencarvi Due Non Con Martello e scalpello Santo cielo Assolutamente no Con tecnologie Immensamente Più avanzate Di quelle che avevano All'epoca Persino più avanzate Di quelle che possiamo ottenere Civilmente Oggi Perché a conti fatti Quando il granito Si fonde Praticamente Quando i blocchi di granito Sono praticamente Fusi fra di loro E non ci passa Una carta di credito Oltre al fatto Che Sapevate Che fisicamente La piramide È assolutamente Impressionante Proprio per le leggi fisiche Della sua costruzione Ciò che vedete In Discovery Channel Ragazzi È una marea di stronzate Purtroppo Causate dalla politica Ovviamente Del gitto Che vuole nascondere Molte delle informazioni Che ha Ma è perché Gli fa comodo Il turismo Si basa su quello Sapevate che Le piramidi Questa è una cosa Che sta anche Sui libri di scuola Ovviamente Però nessuno Si fa mai Le domande giuste Le piramidi Sono costituite Da Un paio di milioni Di blocchi di granito Quelli alla base Ragazzi Quelli alla base Pesano Due tonnellate Più si sale Più aumenta Il peso Ragazzi Più aumenta Il peso Dei blocchi di granito Che è una cosa Strutturalmente Molto giusta E molto comoda Ma Da lavorarci No Ora Come In un'epoca Che storicamente È datata 5000 a.C. Tra il 2000 E il 5000 a.C. Che è sbagliatissimo Perché sono state datate Ben altre cose In quella terra Però Per carità I libri di storia Sono scritti Per abbindollare Gli stolti Ma guardate che figata Il Ma sapevate Tra l'altro Che Cioè Dicevo scusate Ma ovviamente Con i mezzi Che avevano Gli egiziani Non avrebbero mai Neanche potuto Né avere il granito Che era 900 km di distanza Né portarlo in quel tempo Il Per portare Un blocco di granito Di 50 tonnellate Perché sulla cima Arrivano a 55 tonnellate A quelle altitudini Se vogliamo utilizzare La teoria Accreditata Perché hanno trovato Hanno trovato Una trave di legno In una tomba E hanno detto Ah ecco come hanno costruito Le piramidi Con le travi di legno Perfetto Sarebbero dovute essere Lunghe 10 km E alte 2 Cioè Fisicamente Per sorreggere 55 tonnellate di peso Ragazzi Ragazzi Per favore Cioè Anche Anche la dignità Di usare il cervello Il Veramente Manca Molto spesso manca Ed è una cosa Avvilente Avvilente da morire Senza contare Che la cosa che più mi fa Incazzare delle piramidi E che vengano chiamate Tombe 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 degli egiziani Quando Le tombe Dei faraoni Di solito Hanno un sarcofago Dentro Oh Abbiamo droppato Una slab bianca Cioè Le tombe dei faraoni Ragazzi Hanno Di solito Un corpo Eh Dei geroglifici Che raccontano la vita Degli oggetti E un sarcofago Capito? Mummia Sarcofago Geroglifici Nelle piramidi Non c'è mai stato Niente Del genere Non c'è Mai Stato E perché dicono Che sono delle tombe Ma perché È comodissimo dirlo E ovviamente La gente Non ha mai fatto Una cazzo di domanda In massa Il Oh cavolo Ho fatto sparire il drop Cioè praticamente Le tombe dei faraoni Sono nella valle dei re E sapete qual è la cosa Che più mi fa sorridere Che Io sono stato in Egitto Ho visto le piramidi Meravigliose Di Cheope, Ghize e Micerino Cronologicamente ragazzi Le piramidi Cheope, Ghize e Micerino Sono in quest'ordine Cheope No aspetta Porca miseria No Verrei martoriato Da chiunque ne ricorda meglio di me Quindi non posso dire L'ordine giusto Ma Micerino è l'ultima Dovrebbe essere Cheope, Ghize e Micerino Però Non vorrei dire Sciocchezze Ciò che mi fa Sorridere da morire Ragazzi Da morire È che Micerino È stato uno dei faraoni Più ricchi di tutte le dinastie Che io sappia Ed eccezionalmente La piramide di Micerino È la più piccola Quella che viene chiamata Di Micerino Perché Micerino Ha voluto la piramide No? Secondo la storia Micerino però È anche l'ultimo Dei faraoni Con quei tre nomi Cronologicamente E la cosa più buffa È che le ultime dinastie Dei faraoni In realtà Non hanno avuto piramide Ma ce ne sono Tre Vicino a Micerino Di cui nessuno parla Perché fanno schifo Che sono alte Uno sputo Crollate Fatte male E assolutamente Inaccessibili Ora Io so che non è il momento Di parlarne Sto massacrando bambini Però Siamo onesti Cioè O gli egiziani Hanno avuto figli deficienti E riuscivano a fare le magie Prima E poi hanno fatto tre schifi Oppure Gli egiziani Quando hanno appunto Proclamato il Nilo E hanno costruito Il loro impero Le hanno trovate lì Le hanno trovate E hanno detto Oh che figata Quella è mia Poi Quando erano finite Hanno provato a farle anche loro E non gli è venuta Tanto bene Io vi dico sempre Di prendere quello che dico Con le pinze Però perché io non voglio darvi Informazioni concrete Non mi permetterei mai Perché la mia cultura generale Perché sono io Il primo a dire Ho altri problemi Non voglio perdere tempo A informarmi Sono il primo a dirlo Assolutamente il primo Infatti Non posso Non sono nessuno Per parlarne Però Almeno Ah porca miseria Però Almeno ragazzi Io vorrei davvero Che voi Apriste la mente E pensaste A quello che vedete Nel mondo Perché altrimenti Si crea un loop Di abbindolazione E trappola Della mente Esattamente come in televisione Quando un politico parla E dopo si vede un applauso Ragazzi Io ho fatto il montatore Sapete quanti applausi Finti ho montato Durante alcuni discorsi No cioè Si fa eh Perché ovviamente Il montatore Mette un applauso Che è di un'altra parte Ma in televisione La gente pensa Che l'applauso Sia di quella persona A quella persona Eh ragazzi miei Aprite gli occhi Non pensate Ehm Non fate che gli altri Pensino per voi eh Per carità E lo stesso Vale per me Io non sto dandovi I vostri pensieri Ascoltatemi E fate le vostre ricerche Ricercate ragazzi Ricercate Il Ci sarebbe talmente Tanto da dire Sui egizi Sulle piramidi Su quello che so Che non so Che potrei sapere Eh Non basteranno mai Questi video ragazzi Non basteranno mai A questo punto Andiamoci a prendere L'altra L'altra slab D'altronde Racconti fatti Ne abbiamo due adesso Il che mi pone In una posizione Che non pensavo Di raggiungere Perché ero convinto Di non poter ottenere Due slab bianche Questo significa Che potremmo fare Anche l'arma occulta Ma non ci serve Dai ragazzi Su Andiamo a eliminare Sperate che vi dico Visto che non abbiamo Frecce Ci equipaggiamo Alla nostra arma Meravigliosa Cioè io potrei Cioè Solo parlare di Roswell Mi fa venire la pelle d'occa Perché ormai Il segreto militare è sceso I militari hanno cercato Di mentire sputuratamente Molti Un generale è morto Dicendo la verità Di quello che è successo A Moroswell Ha perso la famiglia Si è incazzato Perché ha perso la famiglia Quando cercò di parlare Al pubblico Gliel'hanno ammazzata Ha scritto E cosa ha fatto questo generale? Si chiama Philip J. Corso Cosa ha fatto Quando i militari Gli hanno fatto uccidere la famiglia Perché aveva parlato E ovviamente Non doveva farlo Perché Lo sapeva Ma aveva fatto questo errore Per il bene Secondo lui Degli altri Ma ovviamente Ne ha rimesso troppo Ha preso E ha pubblicato Il suo diario Con tutto quello Che aveva scritto Il suo diario Di un generale militare Successo il casino Eccetera eccetera Storie 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 Che non sto raccontarvi Tra l'altro La cosa che mi fa male La cosa che mi dispiace È che qui non esiste Una sola Un solo riferimento Ai milfanito E ai fenito Se in Dark Souls 2 Avessero provato A immaginarsi Fenito In qualunque modo Basandosi su questi Scheletri Avrebbero creato Una cosa meravigliosa Invece no Hanno inventato Di sana pianta Qualcosa che non ha La minima coerenza Narrativa Peccato Il Praticamente Visto che noi stiamo Vivendo l'epoca degli dei No? Quindi porca miseria La fine dell'era del fuoco Infine Ragazzi Il Io non posso Stare qui a parlarvi Tanto Perché alla fine Diventa spazzatura Parole a caso Conversazione malfatta Non è quello che voglio Ora Ciò che mi interessa fare È non tornare mai più qui E vedere Nito In altra definizione Ha, ha, ha Ha, ha, ha Stupenda Boss fight Ma comunque Molto semplice Nito è un pochino Indebolito Lo sappiamo No? Ecco fatto Possiamo andare Che bello Che bello Guardate 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 Oh oh No 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 Pensavo che fosse un Estus Pensate voi Ok andiamo No 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 La parete Cavolo Eh vabbè Ma sono stato un pollo io Perché c'era la pare La stalagmite a terra E io sono Come un pirla Non l'avevo vista Che bello Che porca miseria Wow Wow Quanto sono caratterizzati Porca miseria Oh oh La presa No cavolo Questa fa male Wow Sono felice Che me l'abbia fatta Però Ehi Mike Cerca di combattere Nito con un minimo Di decenza Che così fai schifo Su dai Fai il serio Mito dai Ma fai qualcosa Di pericoloso davvero Poverino Succede qualcosa Se illumino la stanza qui No Però possiamo illuminare lui Ah 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 cavolo Ho schivato Nell'istante In cui è uscita Porca miseria Sono un imbecille Faccio pena Dovrei fare meno al cazzone Ehi là ragazzi Non aggratemi No Eh insomma Too easy vero Già Ecco Questa è una vera Lord's Soul Non è un frammento Eh Accidente a me E alla mia Poca serietà In queste cose Ok 60.000 anime Non sono male Certo Con l'anello d'argento Sarebbe stata un'altra cosa Perfetto 30 destrezza Ora basta Il resto lo metteremo a endurance Da qui Alla fine della run Tutto a endurance Allora ragazzi Eh Ho parlato veramente male Dell'argomento Perché è troppo vasto Troppo profondo E è molto delicato Quindi mi dispiace Non essere stato comprensivo Di quello che avrei dovuto dire Però Continuate a farmi domande Parliamo d'altro Parliamo di tutto ciò Che potrebbe venire Per la mente Come vedete Abbiamo finito Due Lord È vero Faremo il dire Sì Ma il viaggio non è eterno Sfruttiamolo il più possibile Alla prossima Alla prossima Grazie.